Buone notizie per il rugby nisseno. È stato omologato anche per il rugby lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta. Adesso la Nissa Rugby potrà riprendere l'attività agonistica fino a ora bloccata e che aveva causato la mancata partecipazione al campionato di Serie C della Signores Maschile. L'attività della società, cara allo storico presidente Giuseppe Lo Celso, era proseguita nel mini rugby e nei molteplici progetti didattici e sociali. Ora potrà riprendere pienamente anche nelle competizioni agonistiche. L'omologazione è stata effettuata anche per le competizioni internazionali. Il direttore sportivo della Nissa Rugby, Andrea Lo Celso, ha espresso tutta la propria soddisfazione. In questo momento, per noi estremamente importante, un forte e sincero ringraziamento dobbiamo rivolgerlo alla Federazione Italiana Rugby, delle persone del presidente nazionale Marzio Innocenti, del presidente commissione impianti Giulio Donati e del presidente regionale Sicilia Gianni Saraceno. Grazie per aver sempre creduto tanto nel nostro territorio e nel nostro club. Vogliamo ritornare come un anno fa a essere epicentro del rugby siciliano, ha concluso, e con gli altri club del territorio possiamo farlo.